E' uno dei tenori più famosi al mondo, ha recitato scelto da Woody Allen nel film To Rome With Love, con una cassa stellare composto tra gli altri da Roberto Benigni, Penelope Cruz e Alec Baldwin. Fabio Armigliato è stato protagonista di due tappe nella Tarantino, a Taranto e Ginosa, per presentare la sua autobiografia, un'occasione per raccontare una carriera fantastica sui palchi di tutto il mondo, fino a vincere l'Oscar della Lirica nel 2012. Le due serate sono state organizzate dall'Associazione Musicale Arturo Toscanini, che gli ha conferito anche la presidenza onoraria. Guarda, quando mi dicono che hai fatto un film con Woody Allen, ci sarà un altro film, insomma, quando si fanno delle cose importanti, bene farle, che poi non riguardano, diciamo, direttamente la mia professione, perché insomma, racconto, però non sono uno scrittore, mi piacerebbe che questa cosa creasse dell'interesse e chissà, magari un altro racconto un pochino più specifico della vita passata con Daniela Desi, che abbiamo fatto a 15 anni, importante nel mondo dell'opera, e abbiamo lasciato un segno molto importante nel pubblico e anche tra i critici e gli appassionati d'opera. L'Associazione Toscanini è pronta anche per la terza edizione del premio Classica Due Mari, in programma lunedì 26 agosto al Salino Hotel. Dopo Armiliato, premiato lo scorso anno, quest'anno il vincitore è il noto baritono tarantino, Lucio Gallo. Grazie.